Poi cominciamo a dire anche alcune verità, cioè che quel contenzioso di cui si parlava adesso nasce dal fatto che è il centro-destra, nel quale non si può dire che variantopoli e non ci sentra niente e la questione del generatore non ci sentra niente. Allora, quel centro-destra io lo metto perché dentro c'è anche Gamurrini, capolista di Oraghinelli, Francesco Macri, capolista di Alleanza Nazionale, Forza Italia, Alessio Mattesini, Luca Stella Ceratut, sì, vabbè, però il più votato, Egiziano Andreani, segretario della Lega, penso anche a quel tempo, non mi ricordo, ma comunque ha fatto un lungo percorso. Allora, quel centro-destra lì aveva scelto di vendere l'inceneritore, cioè quella gara che noi abbiamo annullato, di fatto fuori da ogni piano provinciale, interprovinciale, regionale, decideva che bisognava fare un inceneritore da 100.000 tonnellate e la gara permetteva poi a chi la vinceva di diventarne socio. Allora, in questo senso, un pochino di verità però, rimettiamola. Siccome Matteo chiama in causa me personalmente, io vorrei... Il centro-destra, Alessandro. No, tu hai chiamato in causa me, parlando di Tangentopoli. Allora, chi vi sta davanti con Tangentopoli, e l'ho già detto un'altra volta, non ho nulla a che vedere. Con le delibere che hanno portato all'effettuazione della gara per l'inceneritore da 160.000 tonnellate a anno, non ho nulla a che vedere, perché non le ho prese e non le ho adottate. Quindi la mia personale figura, la mia persona di amministratore della Giunta Luccherini, era distante da quelle posizioni. E pertanto oggi, come ero distante allora, sono distante oggi. Il cittadino non ha nulla da temere se io sarò il sindaco. Magari qualcosa da temere se il sindaco diventa Matteo Bracciali, che attraverso il partito che rappresenta ha smembrato AISA in due, con AISA in pianti, che è rimasta Arezzo, e AISA Servizi, che è confluita in Sei Toscana, per la quale Sei Toscana tutti gli anni fattura al Comune di Arezzo 20 milioni di euro. Che il Comune di Arezzo deve esigere da solo. Come faceva AISA? È la bolletta dei rifiuti. Io non ti ho interrotto Matteo, abbia pazienza. Scusa, scusa. Sei Toscana fattura 20 milioni di euro al Comune di Arezzo e li incassa. Il Comune di Arezzo ha l'onere di dover esigere con le bollette dai contribuenti aretini l'onere per la spazzatura. Bollettini, non ti ho interrotto, non mi interrompere. Bollettini che il Comune di Arezzo chiede di emettere a Sei Toscana dietro un corrispettivo di 500 mila euro. Mi pare che sia un giochino che ha le gambe corte. C'è un giochino che ha le gambe corte.